Io e Boris siamo nati il 26 maggio 1996. Siamo gemelli e siamo inseparabili. Andiamo sempre insieme, ovunque. Sono venuto a seguire l'allenamento di Boris, mio fratello. Ho visto tanti bravi giocatori in campo. Avellino è veramente una buona squadra. Giocare più partite possibili per lui è un'ottima occasione per tornare all'Atalanta e giocare da titolare l'anno prossimo. Se Boris giocherà bene ad Avellino e nella nazionale Under 21, sicuramente troverà spazio anche nella nazionale maggiore del nostro paese e in Serie A. Guardo tutte le partite dell'Avellino. Boris finora ha giocato molto bene. Forza, forza Avellino!